Io mi farò ascoltare una canzone che è nata in alcune silenziosi notti. Però ero solo a casa, ma non ero da solo perché in comunione di spirito c'è la Roberta e il nostro arcivesco Tomasio che mi ha chiesto di scrivere questa canzone. E' una canzone che parla di chiamata. Ognuno di noi ha una chiamata su questa terra. Però a volte non riusciamo ad individuare la sorgente della chiamata. Quindi siamo confusi fino a quando poi magari non succede qualcosa che ci fa capire bene la nostra chiamata. E allora vi farò ascoltare questa canzone che dedichiamo al nostro San Paolo VI. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Mi hai voluto sì, ma ho sofferto tanto E sono ancora qui, che ti sto contemplando La vita ci porta a trovare come l'amore, non sa mai l'ora E ogni tanto ancora mi domando Cosa vuoi da me, mio signore? Io scendo te per amore Cosa io potrò darti, oh padre? Non mi ricorda ho bisogno di te Cosa vuoi da me Cosa vuoi da me Ho bisogno di te Io ho bisogno di te Sì, ho bisogno di te Grazie a Tani Nevoso, accompagnato al piano da Matteo Caramanico E con la partecipazione straordinaria del maestro Paolo Angelucci Grazie di cuore Grazie, grazie Buon compleanno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti